diciannovesima, diciannovesima, diciannovesima puntata, ok c'è il gobo lì, che è Camillo il gobo è il nano, tutti ce l'abbiamo è il circo, è il circo, abbiamo il mostro pure io sono il primo, ho aperto le danze questa è la diciannovesima puntata, una cosa bellissima una bella puntata, adesso facciamo l'ultima, questa è la penultima, poi ci sarà l'ultima poi andremo in vacanza, spero, tu andrai in vacanza sì sì sì, mi hai fatto pensare a questa cosa che no no, dico, andrei in vacanza, hai deciso di fare vacanza quest'anno? oppure qualcosa di più intelligente? in verità, ho deciso di cambiare cioè nel senso voglio scoprire nuovi orizzonti del tipo un travaglio ma non vale perché pensavo di stare parlando dei mutanti no 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 l'ha detto al pubblico ma mi sono reso conto di una cosa semplice, perché io mi sediavo, perché i cristiani ti avaggiano a fare e dire ma non so che il travaglio è hai ragione cioè io mi alzo alle due del pomeriggio ma che fa quando ti soffrendo la buona? quando mi so, quando mi so poi alla sera, un'ora, mi prendo i piccoli del menevario ma chi sapete? hai ragione, fino alla mezza devo sempre chi sapete? cioè tu che fai? tu sei eroe, fai io non mi alzo alle due, mi alzo verso le undici e mezza, però mi rendo conto che... non sei capace sempre magnaccio no dai non sei capace, come a tutti, se no tu Cristiano picchiare un biglietto di stice la cabaret ci sono la mattina alle sei, alle sei, capisci? a tre focca ma va bene sei cucca, sei fa un'ora di spettacolo ai miei picci ma pure tu fai questa cosa? non la voglio fare più bellissimo io voglio trovare un lavoro bravo io voglio essere nel popolo il lavoro con il popolo io lavoro con il popolo bravo 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 tra l'altro visto che comunque tu sei un talento nello spettacolo si consiglierei di continuare con lo spettacolo bravo c'è il lavoro che fanno questi ragazzini di 18 anni, gli animatori pulissimi bellissimo bellissimo, questo faccio 18 ore al giorno uuuuuto ma nessun è un travaglio, chi c'è schiava tu? ma è un bel lavoro perché poi le altre sei ore trombi eh e quando lo vuoi muovere? ehi ma ma Tone non ti piace fare l'amore con le donnine? Tone io non l'ho fatto mai ma mi sto a confondere a lui Tone no no papà la male, papà la male, papà la male no 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 perché questa cosa del lavoro che vuoi fare non lavori un'ora la sera ma lavorerai otto ore un lavoro no tanto non lavori da otto ore 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 ma paranti che stai otto ore ne sapete otto ore non c'è meglio voglio rimanere ma è l'età con i negari ma e quindi? dico ma chi è otto ore? ma c'è mio zio per esempio che cerca una persona al ristorante oh io con mangiare sul mio sciagliato Tone l'ha sapete non ha mangiato mai la mia vita non ha confondito a lui insomma le fai sta cosa Tone le fai sta cosa allora ti fai ti fai un part time carino ma è fino a quattro ore ma è fino a quattro ore ma è fino a quattro ore ma è che c'è meglio è quattro ore ma paranti che è meglio noi c'è il mio zio che c'è un'impresa funebre e cerca un aiuto becchino mmm mi scanto di chi? mi scanto che mi scanciano poco molto ma mi sono il più legale una vita a scappare ma mi sa confondere a lui ma è così non troverai mai un lavoro perfetto non l'ho trovato mai nella mia vita ma mi sa confondere a lui